Musica Prima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, apriamo l'informazione di Ray TV Con una notizia che arriva da Messina, arresti per corruzione e concussione Ci sono guai giudiziari per un ex deputato regionale, sempre della città dello stretto Arrestato assieme ad una dirigente medico dell'ospedale Papardo Il servizio è di Filippo Romeo Con l'accusa di tentata concussione e corruzione, arrestati dalla guardia di finanza di Messina L'ex deputato all'assemblea regionale siciliana Antonio Catalfamo E la dirigente medico amministrativo dell'ospedale Papardo Francesca Paratore Gli investigatori delle fiamme gialle coordinati dal Dipartimento Pubblico Amministrazione della Procura Peloritana Hanno passato al setaccio una serie di procedure di gara riguardanti il nosocomio Che, secondo l'accusa, sarebbero state condizionate da interessi privati Riconducibili dall'ex parlamentare siciliano e alla dirigente medico In particolare le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Messina Avrebbero permesso di accertare che, in virtù di un rapporto personale tra i due Si sarebbe tentato di agevolare persone loro vicine Imponendo l'assunzione in ditte private che si aggiudicavano gli appalti dei servizi di pulizia e sanificazione Della struttura ospedaliera O avvantaggiandoli nella partecipazione a pubblici concorsi Oppure ancora nella predisposizione da parte dell'azienda ospedaliera di bandi di gara ad hoc L'attività investigativa ha ricostruito anche, pur nella fase dell'accertamento preliminare Spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza Una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici Con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città metropolitana di Messina Del 12 giugno del 2022 e a quelle regionali del 25 settembre dello stesso anno Il GIP ha concesso ai due domiciliari Catalfa, ma originario di Milazzo, venne eletto deputato regionale nel novembre del 2017 Nella lista di Fratelli d'Italia Ma nel gennaio del 2020 transitò alla Lega Con la quale si candidò poi alle regionali del settembre del 2022 Ma senza essere eletto Dopo l'esito delle elezioni, trascorso un paio di mesi Lasciò il carroccio e passò a Forza Italia Si è costituito il presunto autore della sparatoria avvenuta giovedì scorso In via Santo Cantone nel quartiere d'Inesima a Catania Il servizio è di Salvo Cutuli Si è costituito il presunto autore della sparatoria che avrebbe ferito a colpi di arma da fuoco Due uomini, un 47enne italiano e un 27enne di nazionalità albanese Quest'ultimo ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Garibaldi Centro di Catania Il duplice fatto di sangue il primo pomeriggio di giovedì scorso All'interno di questo appartamento di proprietà degli ACP In via Santo Cantone nel rione d'Inesima a Catania Ad armare la mano dell'indagato a motivi di natura economica Con una delle vittime raggiunta alla clavicola da un proiettile Nonostante il ferimento e nel tentativo di sfuggire da killer Ha scavalcato l'inferriata del balcone a secondo piano della palazzina Che ha ceduto finendo al suolo e riportando varie fratture agli arti inferiori E' strano ai fatti invece il 27enne straniero raggiunto alla Tempia Da un singolo proiettile esploso da distanza ravvicinata Era invenuto dagli agenti in una pozza di sangue all'interno dell'appartamento Insieme all'arma con la quale l'uomo che era stato identificato e ricercato Avrebbe esploso in totale tre colpi all'indirizzo dei due uomini Il 47enne invece si trova ricoverato a Policlinico Interrogato nei giorni scorsi degli investigatori della squadra mobile Ha fornito una versione di fatti poco convincente La svolta alle indagini nella giornata di ieri Quando un uomo di cui non sono state rese note le generalità Si è costituito in questura ed è stato arrestato su disposizione della procura Con l'accusa di duplice tentato omicidio I poliziotti avevano stretto i cerchi attorno allo sparatore Il quale avrebbe deciso di consegnarsi L'ipotesi vagliata in un primo momento di un contenzioso Venitolo in sangue per via di un'occupazione abusiva dell'alloggio La cui proprietaria era scomparsa cinque anni fa E' stata esclusa dagli inquirenti che seguivano una precisa pista Supportata da particolari che conducevano al fermato Una bambina di quattro anni per motivi da accertare Caduta dal balcone al secondo piano della sua abitazione Ora è grave Accaduto ieri sera a Mazzara del Vallo Grosso centro del Trapanese La piccola è stata portata all'ospedale Abele Aiello Di Mazzara del Vallo Dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico Alla milza spappolata dopo l'impatto col suolo Oggi potrebbe essere trasferita al civico di Palermo E' ancora un imprenditore di 79 anni E' ricoverato in coma irreversibile all'ospedale di Careggi Firenze Dopo che fu aggredito e rapinato la sera del 20 marzo scorso A Campi Bisenzio Mentre andava in banca per versare l'incasso settimanale della sua pasticceria Due malviventi fuggirono in auto Ora due presunti rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri Per rapina pluriaggravata e lesioni gravissime Sono un 63enne di Palermo Ed un 47enne detenuto per altre vicende giudiziarie A cui il provvedimento è stato notificato in carcere L'assalto avvenne nel parcheggio di una filiale di banca CR Firenze In via delle Treville nel comune di Cintura Quella sera il palermitano Secondo quanto ricostruito dai carabinieri Avrebbe fatto da palo Mentre il complice dopo aver atteso che l'anziano scendesse dall'auto Parcheggiato in uno degli spazi per i disabili Lo avrebbe assalito alle spalle facendolo cadere a terra Per strappargli il borsello che conteneva circa 18 mila euro Una rissa nel Catanese Avvisi orali emessi dal questore di Catania Sono stati notificati nei giorni scorsi dai carabinieri Alle 15 persone, 14 maggiorenne E un minorenne denunciate per una maxirissa tra italiani e albanesi Avvenute il mese scorso davanti ad una panineria di Biancavilla in provincia di Catania Sono 12 le persone inoltre raggiunte da un divieto di accesso agli esercizi pubblici Il DASPO urbano Piantagione di cannabis in casa Un arresto nel Catanese Un uomo di 51 anni, 10 reale In un suo terreno aveva creato una vera e propria protezione Con telecamere di videosorveglianza E coltivava 17 piante di cannabis Indica, alte più di un metro Che è stato per questo arrestato dalla Polizia di Stato Per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Bene confiscato, consegnato alla Guardia di Finanza nel Palermitano Si è svolta proprio oggi una cerimonia di consegne di questo bene che vedete Confiscato a Partinico nel Palermitano Dalle fiamme gialle che hanno preso parte alla cerimonia Tra questi anche il comandante provinciale di Palermo, Domenico Napolitano Il sindaco di Partinico, Pietro Rao L'avvocato Gaspare Celesia All'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati Pietro Ceolino dell'Agenzia del Demanio L'immobile è stato confiscato nel 2014 a Giuseppe Amato Imprenditore edile accusato di essere vicino alla famiglia mafiosa dei Vitale di Partinico Con la nuova destinazione la villa sarà trasformata in alloggi di servizio Per i neofinanzieri assegnati alla compagnia di Partinico E allora adesso il capoluogo siciliano Vediamo questa notizia che arriva da Palermo Risulta essere tra le ultime province d'Italia per qualità del lavoro Servizi secondo la classifica delle città del lavoro 2023 Luca Licata Un operaio fa 12-14 ore di lavoro al giorno Mette un cameriere perché deve fare 10 ore di lavoro in un giorno E deve lavorare 6 giorni a settimana Pure 7 a volte Non è molto bella come situazione È una metropoli di quasi un milione di abitanti Dovrebbe esserci molto lavoro e invece quasi niente Palermo risulta essere fanalino di coda nell'ambito della qualità del lavoro Delle offerte professionali, del reddito e dei servizi A svelarlo è la classifica stilata dalla fondazione IDP L'associazione italiana per la direzione del personale Che prende in esame 110 capoluoghi di province italiane La graduatoria è stata redatta attraverso l'attribuzione di punteggi Come un semaforo prevede tre colori che corrispondono a tre fasce Verde la prima alla quale appartengono i promossi Ovvero le province più virtuose Gialla la seconda della quale fanno parte le città con valori intermedi Ed infine rossa a cui appartengono quelle con i punteggi più bassi In quest'ultima fascia la rossa spicca il capoluogo siciliano Considerato una delle città italiane dove si lavora peggio Dello sfruttare le persone Per cui diciamo molte persone magari hanno un lavoro Però non vengono rispettate gli orari Non viene rispettato lo stipendio che devono pigliare Non vengono rispettati i loro diritti I ragazzi scappano da Palermo Io ho due figli e sono tutti e due fuori Una a Brescia e l'altra all'Aquila Non c'è lavoro e quello che c'è non è soddisfacente per l'esigenza dei ragazzi Ci sono molte strade, palazzi da dover rifare Quindi anche l'edilizia dovrebbe funzionare Invece come ha detto lei sono pagati niente Anche uno che lavora dieci ore viene pagato massimo mille euro al mese Quindi devo dire pure grazie Sette i parametri presi in considerazione I fondamentali economici come livello dei redditi e costo della vita I servizi di cittadinanza sociale e sanità L'offerta formativa, i trasporti e l'accessibilità Poi cultura e tempo libero, sicurezza e vivibilità ambientale Che ricomprende inquinamento, produzione di rifiuti, verde pubblico e condizioni climatiche Che la classifica prende in esame anche l'inclusione, i diritti e le pari opportunità Come la qualità della vita delle donne, dei bambini, dei giovani e degli anziani Analizzato anche l'aspetto del futuro e dell'innovazione Io sono un impiegato comunale Io mi trovo bene A posto Sono pure un messo notificatore Sono nella mia zona Per cui per me va bene Io non penso che Palermo sia messa male Ma che in realtà Quel che serve È capire realmente Quello che vogliono sia Le persone che vogliono assumere E sia anche i dipendenti La qualità di vita la vedo sinceramente positiva Migliorata a livello di sicurezza Dico a livello di Diciamo di modo di vivere per strada Non sono calati sicuramente quelli che sono stati episodi di violenza Non sono problematiche che in Sicilia appartengono solo al capoluogo di regione Tra le 30 città in fascia rossa spicca Palermo Alla quale seguono però tutte le altre province C'è Ragusa, Siracusa, Agrigento, Catania, Caltanissetta, Messina, Trapani ed infine Enna È siciliano il miglior angiologo d'Italia Giovanni Alongi È stato insignito per il terzo anno consecutivo del mio dottore Award 2023 36 anni, già una carriera ricca di traguardi Padre di tecniche di altissima avanguardia Alternative alla chirurgia tradizionale È il siciliano Giovanni Alongi Il migliore angiologo d'Italia Secondo la piattaforma web e social più grande Autorevole in ambito medico Che ogni anno assegna un premio allo specialista più apprezzato e votato Sia dai pazienti che dai colleghi della stessa specializzazione Il mio dottore Awards 2023 È giunto alla sesta edizione All'obiettivo di mettere in luce non solo la qualità professionale dell'operato dei medici recensiti Ma anche l'empatia, la disponibilità, la dedizione e l'umanità nella prestazione delle cure Tutto questo viene trasferito nei giudizi favorevoli sul network che sono visibili a tutti Un riconoscimento che mi inorgoglisce, dichiarato Alongi Sono molto felice per questo premio È il terzo anno consecutivo È un premio che mi inorgoglisce Perché non è soltanto un premio alla tecnica, alle tecniche o alla tecnologia È un premio che viene dai pazienti Viene dagli altri colleghi di tutta Italia Degli angiologi e dei chirurghi vascolari Che ringrazio per aver fatto il mio nome Ma soprattutto è un premio alla dedizione, all'empatia e all'amore Alla relazione medico-paziente Perché io metto me stesso e tutta la mia vita a questo tipo di trattamenti Che oggi fortunatamente riescono ad evitare l'intervento chirurgico Per chi soffre di problemi di safene, di vene varicose Sono delle patologie croniche Per cui le patologie croniche hanno necessità di un rapporto medico-paziente ottimale E ricevere questo premio ci inorgoglisce a me, a tutto il mio staff Perché ci consente, ci dà la motivazione per andare sempre più avanti Agrigentino di nascita e messinese di adozione 36 anni, ma già una carriera ricca di traguardi Fondatore dei centri Angio Cor Presente al momento a Palermo, Messina e Agrigento Che accolgono anche i pazienti da altre regioni Grazie ad un protocollo specifico Che consente di saltare la prima visita specialistica Attraverso una prevalutazione diagnostica da remoto E accelerare così i tempi di trattamento In questi ambulatori viene eseguito in esclusiva Il metodo Angio Cor Che consente di dire addio alla tradizionale chirurgia di vene safene varicose Evitando anestesia, saloperatorie e complicanze E privilegiando approcci non invasivi La notevole richiesta di tali trattamenti A volte può causare attese di alcuni mesi Negli ultimi due congressi mondiali di flebologia A Dubai e Istanbul Allonge aveva presentato una delle diverse tecniche All'avanguardia utilizzate Un apparecchio unico che produce in maniera automatica Una musso di altissima qualità e stabilità Per il trattamento eco guidato Delle vene safene e vene varicose Allonge ha raccolto oltre 700 recensioni positive Andiamo adesso a Mister Bianco Dove l'opposizione consigliare è sul piede di guerra Dopo l'aumento della tassa sui rifiuti La Tari avevamo previsto tutto Un salasso ingiustificato Un aumento della Tari di circa il 28% Che non trova rispondenza nella qualità del servizio E che appare come un macigno sulle tasche dei contribuenti Così i consiglieri di opposizione al comune di Mister Bianco Ernesto Calogero, Katia Caruso, Matteo Marchese Igor Anastasi, Orazio Panepinto, Alessio Strano, Michele Zuccarello Che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa Per puntare il dito contro l'aumento della Tari 27,98% in media Voluto dall'amministrazione Corsaro e dai consiglieri di maggioranza Che in campagna elettorale invece Afferma l'opposizione Avevano sbandierato la diminuzione dei costi L'assunzione di 31 operatori E l'acquisto di 11 mezzi Ha portato i Mister Bianchese a pagare 1.800.000 euro in più l'anno Sul costo complessivo Tari Senza che il servizio abbia segnato Lo scatto in avanti che i Mister Bianchese auspicavano Il primo di aprile del 2022 il sindaco ci fa il pesce d'aprile Decide di fare una riforma in 15 giorni Avevamo già detto Sindaco, così si innalzerà la Tari Dal primo di aprile altre quattro riforme Ci troviamo, dopo tutti i suggerimenti che noi abbiamo dato A un innalzamento medio del 28% della Tari a Mister Bianco Dovuto a vari fattori Ma soprattutto quello che ci preme segnalare ad uno È giusto che ci sia stato un aumento Per il costo del conferimento in discarica Problema che hanno tutti i comuni Ma questo è l'unico comune Che ha scelto di aumentare il personale Di passare da 83 a 114 unitati personale Da 21 a 32 mezzi E questo giochetto ai cittadini di Mister Bianco Costerà 136 mila euro al mese Un milione e otto all'anno E solo questo è il 9% del costo della Tari Mister Bianco è uno dei comuni che subisce il pendolarismo dei rifiuti C'è stato l'inalzamento della raccolta differenziata Ma c'è stato un aumento dei rifiuti Dovuto alla vicinanza col comune di Catania Anche perché prima tanti cittadini di Mister Bianco Questo è giusto riconoscerlo Usavano il fenomeno del pendolarismo Dell'andare a scaricare a Catania Però ci troviamo in una situazione estana A Mister Bianco c'è questo aumento dei rifiuti Non c'è a Gravina Non c'è a Battiati Non c'è in tutti gli altri comuni della fascia E nessun altro comune della fascia Come Gravina, come Battiati Aumenta il personale Perché aumentano i rifiuti solo a Mister Bianco? Perché allo stesso tempo solo a Mister Bianco Doviamo aumentare il personale? E perché solo i cittadini di Mister Bianco Devono pagare di più rispetto ai cittadini di Gravina o di Battiati? Per l'amministrazione Corsaro L'assessore Salvufoti ricorda come l'ha differenziata Al momento dell'insediamento Era al minimo E i sacchi del porta a porta Restavano ovunque per strada Abbiamo, dice l'amministrazione Scoperto di aver ereditato Un contratto di raccolta dei rifiuti Sottodimensionato Rispetto alle reali esigenze Di una grande città come Mister Bianco Si prevedevano servizi Per 14 milioni di chilogrammi di rifiuti annui Ma il nostro territorio Nel sol'anno 2021 Ne ha prodotto 21 milioni Per garantire efficienza Dunque si è investito sul servizio Avviando un congruo livello di uomini E mezzo al lavoro per il decoro E l'ambiente in città Opere pubbliche a Catania Lavori in corso a Piazza Nettuno E Duca di Genova E poi nei campi di Via Villa Glori E Velletri Oggi i sopralluoghi dell'amministrazione comunale Ancora Mario Gras Era così Adesso è così Il campetto di Via Villa Glori La piazza di Via Villa Glori Cambiano volto Grazie ai lavori di riqualificazione Disposti dall'amministrazione comunale di Catania Che con la rimodulazione Dei fondi Ponometro E' riuscita ad intercettare Un finanziamento di 800 mila euro Per dare nuovo volto A questo importante Vitale spazio Nel cuore di Picanello I lavori hanno avuto inizio Nel mese di febbraio di quest'anno E finiranno probabilmente Entro luglio Così come da calendario Una nuova perla nella collana Che in questi mesi Ha visto e vedrà La riqualificazione di 13 piazze Ma anche la ristrutturazione Di aree sportive Come ad esempio Per rimanere a Picanello La rigenerazione completa Del campo di calcio Di via Velletri Che è proprio attaccato A via Villa Glory In questo caso L'appalto è di circa 1 milione e 200 mila euro Insomma che consentirà Il recupero Del terreno di gioco Che sarà del tutto rinnovato Gli spogliatoi L'impianto di illuminazione L'attrezzatura sportiva Il settore di accoglienza Insomma un gradevole impianto In cui giocare a calcio Un campo da calcio Che ha visto protagonista Tanti atleti Nel corso di questi anni Con un manto Totalmente usurato Siamo riusciti A intercettare Dei fondi europei Per riqualificare Circa 1 milione e 200 mila euro Sono partiti i lavori Che si concluderanno Sicuramente Entro il mese di novembre Il campo sarà Interamente rigenerato Con erba sintetica Di nuova generazione Gli spogliatoi Saranno interamente riqualificati Sarà aggiunto Un nuovo spogliatoio Con un plesso accanto Ai vecchi spogliatoi Perché era una delle lamentele Che giustamente Muovevano sempre le squadre Che si incrociavano Durante le partite Quindi insomma Una rigenerazione Inquadrata in quel piano Che abbiamo portato avanti Con la vecchia amministrazione Che stiamo portando avanti Con l'amministrazione Trantino Appunto di rigenerazione Di tutta l'inventistica sportiva Della città Piano che si integra Con quello relativo Alla rimodulazione Delle 13 piazze interne Al tessuto urbano Quello è un altro progetto Un'altra strategia Che è il Catania Spazio Sport Che vede la rigenerazione Anche di questa piazza Dietro proprio il campo Velletri In via Villa Glory Con un vecchio campetto in disuso Che è stato totalmente rigenerato Ma è stata rigenerata Anche la stessa piazza Con nuovo verde Con materiale autobloccante E quindi materiale drenante Il tutto appunto in questo caso Nella logica Di una riqualificazione Di aree esterne Come piazze E aree dismesse Totale sono 14 i progetti Sono tutti partiti Infatti in questo lavoro Che stiamo facendo di monitoraggio Stiamo mettendo a punto Lo stato dell'arte Tra le varie piazze Anche quella denominata Cardinale Pappalardo Ex Duca di Genova Prima un grande parcheggio Adesso aria pedonale Con aviole sedute Per vivere meglio Quella parte Della civita catanese A pochi passi Da Palazzo Platamone Affancio di Palazzo Biscari Ebbene i lavori proseguiranno Malgrado in una parte Della stessa piazza Così come più volte detto Non in maniera sorprendente Siano stati ritrovati Dei reperti Sono già stati consegnati Alla sovrendendenza Che su richiesta Dell'amministrazione comunale Di Catania Ha seguito Sino dall'inizio Gli scavi E potrebbero ricondurci All'età federiciana Si vedrà Di certi lavori Vanno avanti Con le dovute cautele E non è escluso Che qualora Se ne dovesse presentare La necessità Possa essere adottata Una miglioria Al progetto Che consenta La salvaguardia E visione Delle strutture Si in cui Venuta la luce Rimaniamo Nel capoluogo Etneo Per parlare Dei defibrillatori Semi automatici In vie Piazze Di Catania Una ventina Le macchinette Salvavita Sparse Installate Da istituzioni Anche Associazioni Che le hanno Donate Ma non tutti Sarebbero in grado Di utilizzarle Installati In piazze pubbliche E nelle vie Maggiormente Trafficate Nei pressi Della pista ciclabile Al Teatro Massimo Di fronte La questura Vicino allo stadio Angelo Massimino Nella spiaggia Della Playa E per finire Nella nuova piazza Montana Di San Giovanni Galermo Parliamo Dei defibrillatori Semi automatici Degli strumenti Salvavita Che in alcuni casi Particolari Possono davvero Strappare alla morte Chi è malauguratamente Colpito da arresto Cardiaco O da fibrillazione Ventricolare Le macchinette Possono essere utilizzate Da chiunque In stato di emergenza Viene infatti superato Una sorta di vincolo Quasi una zona ostativa Che prevedeva Cosa ben diversa Oggi Si dà maggior risalto Allo stato di necessità Dunque se ne autorizza L'utilizzo Se praticato E entro pochi minuti In attesa dell'arrivo Del 118 E' stato provato Può davvero salvare Una vita Ma chi sa utilizzare Il defibrillatore La macchinetta Una volta prelevata Dal sito in cui E' custodita E' aperta Spiega di fatto Passo passo Quali procedure Eseguire Ma potrebbe Non bastare All'improvvisato Operatore Che si ritrova Tra le mani Per la prima volta Nella vita Uno strumento Di cui probabilmente Ha sentito parlare Ma di cui Conosce davvero poco Nessuna paura E' stato più volte Spiegato Però è pur vero Che le pubbliche Amministrazioni Ma anche le semplici Associazioni Di volontariato Oppure sportive Oppure ancora Le aziende Hanno nel corso Dei mesi Provato a formare Personale Volontari Studenti Proprio per adottare Con correttezza E mediatezza Le procedure Di primo soccorso Anche con il defibrillatore Semi automatico In tal senso Va ricordata La campagna informativa Che durante la scorsa Consigliatura L'ex consigliere comunale Di Catania Sarà Pettinato Medico Oncologo Promosse In città E soprattutto Tra le scuole Che portò Alla formazione Di ben 700 Ragazzi Bisogna proseguire Sulla strada Della formazione Anche perché Secondo un mini sondaggio Che abbiamo realizzato Non proprio Tutti i cittadini Sanno A cosa serve Il defibrillatore E come Utilizzare La macchinetta Salvavita Ma lei lo saprebbe utilizzare? No Sono stati formati 700 ragazzi Però Poche sono le persone Poi adulte Che invece Riescono a formarsi Non saprebbe come fare? No Lei signora Saprebbe No Nemmeno io No Ci sono Però Se dovesse capitare Lei quindi Non saprebbe come No Però la macchinetta Dice esattamente Quello che si fa Riuscirebbe a questo punto Insomma Proverebbe? Vabbè sì Se ci sono le istruzioni Sì No Completamente no Però I ragazzi Vengono formati a scuola È una buona cosa Sì Questo è giusto Informare le persone Chi sta male Si impara Una cosa del genere Non sono aggiornato Quindi lei non saprebbe utilizzare? Oddio Sì Se c'è necessità Sì Però Non so dove sono obbligate Diciamo Sinceramente no Se le proponessero un corso Potrebbe essere una cosa utile Perché i ragazzi a scuola Vengono formati È giusto che sia così A proposito di formazione Sì Io ho fatto un percorso Di primo soccorso A scuola E sono stato autocertificato Dall'autobulanza Che posso utilizzare Il defibrillatore Perfetto Ma sono così È così difficile utilizzare Perché la macchinetta Comunque spiega Quello che è Difficile non è Però le manovre Che si usano Potrebbero causare Danni alle persone E a questo punto Che bisogna fare? Bisognerebbe fare Dei percorsi Per più persone In modo che Più persone Potrebbero darci aiuto Esattamente sì Perché come Ha fatto dei corsi Per utilizzarli Di primo soccorso Sì Sì Ma anche di utilizzo Proprio del defibrillatore Quindi Che poi mi spiega Non è neppure tanto difficile Cioè nel senso La macchinetta Ti spiega un po' Quello che devi fare L'unica cosa Che secondo me Uno deve stare attento Nella parte finale Che va a azionarlo Deve far sì Che nessuno tocca La persona Che è infartuata Parliamo adesso Della ciliegia Dell'Etna Marchio DOP Che raggruppa Comuni Produttori E mira i mercati Sia interni Che esteri Se ne è parlato Al seminario Conclusivo Tra i sindaci Dei comuni coinvolti Produttori E anche i ricercatori I prossimi 7, 8 e 9 luglio A Sant'Alfio La sagra della ciliegia E l'infiorata Salvo Gutuli La ciliegia Dell'Etna A marchio DOP Denominazione di origine protetta Al centro del seminario Del comparto Cera Sicolo Che mette insieme I comuni Della fascia Marino Pedemontana In cui questo squisito Frutto viene coltivato E commercializzato Con ottime Performanze di mercato La ciliegia E tenea Proprietà organolettiche Di gusto Di gralunga Superiore Alle altre regioni Produttrici Puglia E Spagna Esportano Grossi quantitativi Di quello che a ragione Viene certificato Come il frutto estivo Più ricercato Dai consumatori A caratterizzare Le produzioni Nostrane La varietà Donantoni Marsantoni Nel gergo locale Oggi al banco A circa 10 euro Al chilo Ad ulteriore riprova Di una produzione Assai superiore Rispetto alla concorrenza Da qui L'iniziativa Del comune Etnei Produttori Di raggrupparsi In un consorzio Fare sistema Significa penetrare Mercati stranieri E muovere economie E future coltivazioni A Sant'Alfio Ne hanno parlato Amministratori Produttori E professori universitari Della facoltà di Agraria Coinvolti Nel programma Di sviluppo E miglioramento Di produttività E sostenibilità Comuni coinvolti Sono Giarre Mascali Milo Piedemonte Teneo Santa Venerina Zafferano E Sant'Alfio Che celebrerà La ciliegia Gioiello Dell'Etna I prossimi 7, 8 e 9 luglio In piazza Duomo Con tanto di infiorata La professoressa Valeria Rizzo Ricercatrice Dell'Università di Catania Ha sviluppato Un programma di ricerca Su raccolta Confezionamento E trasformazione Della ciliegia Illustrando i risultati Ottimi Nel corso del convegno Odierno Le ciliegie DOP Sicuramente di ottima qualità Come quelle del territorio Hanno dato dei risultati Nella nostra ricerca Sperimentale Sulle sia condizioni Di confezionamento Della ciliegia fresca Che sulla trasformazione Hanno dato dei risultati Eccellenti La ciliegia Se parte Da un'alta qualità Iniziale Confezionata Dura nel tempo Anche 20 giorni Se ben confezionata E ben condizionata I prodotti trasformati Quindi Confetture Liquore Abbiamo fatto Ciliegie Disidratate Che sono state Adoperate Come base In alcuni prodotti Da forno Hanno dato Veramente Dei risultati Eccellenti Per il sindaco Di Sant'Alfio Alfio Laspina La ciliegia Come pure Lo sviluppo Dei percorsi Eno gastronomici Rappresenta il futuro Dell'economia Delle comunità Dell'Etna Il nostro intento È quello Di creare Una massa critica Che possa essere Diciamo Di impatto Positivo Sui mercati Con il supporto Con il supporto Del consorzio Fai economia Abbiamo Abbiamo noi Grandissime richieste Che purtroppo Quest'anno Non abbiamo potuto Così soddisfare Perché ci sono state Anche delle problematiche Legate al Meteo Però Quella che è La prospettiva futura Su cui noi stiamo Lavorando E proprio oggi Con questo convegno Molto significativo Con la sagra Che noi faremo Nei giorni di 7, 8 e 9 L'infiorata Sono diciamo Proprio Delle promozioni Che stiamo cercando Di mettere in atto Per far conoscere Quanto più possibile Questo prodotto Di grande eccellenza Milo non è soltanto Ciliegia Ma c'è anche L'enogastronomia Qui un territorio Che si sposa Perfettamente A questo tipo di ragionamento Anche in chiave turistica In chiave turistica Diciamo noi Siamo nella condizione Di poter offrire Ai nostri turisti Visitatori Delle grandi realtà Nel settore Dell'enogastronomia Sia per quanto Riguarda proprio La ristorazione Ma anche La pasticceria La gelateria E tutto quello Diciamo che è legato Al mondo Della ristorazione Quindi i turisti Che vengono a visitare Questo territorio Ma non solo Sant'Alfio Tutto il comprensorio Hanno la possibilità Di trovare Delle realtà Bellissime E io invito tutti A poter visitare Questi luoghi Linea alla regia Adesso Per la pubblicità Tra poco Rieccoci in diretta Il momento del meteo Le previsioni meteorologiche Per la giornata di domani Martedì 4 luglio Tempo speculare Rispetto alla giornata odierna Con ampi spazi soleggiati E mari calmi E venti deboli Le temperature Su Catania Si innalzano Sia i valori Minimi che massimi Rispettivamente Previsti 22 e 34 gradi centigradi Quasi in tandem Con Agrigento Mentre la città più calda Sarà Siracusa Con 35 gradi La più fredda e nottata N con 13 gradi centigradi E' tutto per questa prima edizione Grazie come sempre Per averci scelto E vi auguriamo Buon proseguimento Di pomeriggio Grazie a tutti